Aveva comprato alla fiera dell'antiquariato di Arezzo un violino per poche centinaia di euro e poi aveva scoperto che valeva invece una vera e propria fortuna, ma purtroppo lo strumento era stato rubato. Protagonista a suo malgrado del ritrovamento del prezioso violino del 1790 attribuito a Lorenzo Storioni, considerato uno dei maestri della liuteria cremonese del XVIII secolo, un operaio 29enne di Empoli. Nel 2017 lo strumento musicale era stato acquistato presso una casa d'aste americana da un musicista milanese al quale era stato poi rubato tra il 17 e il 18 dicembre scorsi mentre si trovava per motivi personali all'ospedale Careggi di Firenze. Del prezioso violino comprato per oltre 230 mila dollari si erano così perse le tracce fino a quando non è ricomparso sui banchi della fiera dell'antiquariato. Le indagini erano partite dalla segnalazione di una lutaia toscana alla stazione dei carabinieri di Firenze Uffizi, la quale era stata incaricata dal giovane operaio per una valutazione sull'autenticità e il valore del violino. I carabinieri del reparto specializzato dell'arma, attraverso le informazioni acquisite, avevano accertato che lo strumento musicale era proprio quello rubato qualche mese prima all'interno dell'ospedale di Careggi. I successivi accertamenti hanno poi consentito di identificare l'ultimo detentore del violino che, informato della provenienza illecita dello strumento, lo ha riconsegnato spontaneamente. La Procura della Repubblica, presso il Tribunale di Firenze, dopo aver convalidato il sequestro, ha disposto la restituzione del violino al proprietario che è avvenuta oggi nella sede del nucleo dei carabinieri tutela patrimonio culturale di Firenze.